Musica Vi vedrete uno spot dedicato a questa iniziativa fuori menù a 40 ristoranti che si ispirano a 40 film italiani Musica Voglio ringraziare anche la Valle Seriana che è difficile ringraziare una valle ma in questi due anni è stata un'avventura, un'esperienza un progetto veramente importante quello che vorrei è trasmettere con i propri siti che ho imparato io, trasmettere alle nuove generazioni Grazie 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 Grazie